Ancora un'altra intesa, già operativa dal 25 novembre 2021 per merito della Confcommercio del Molise l'Arma dei Carabinieri, che rafforza il ruolo attivo delle imprese commerciali nell'ambito della lotta alla criminalità. Intanto, in questa nuova indagine di legalità ci piace, troviamo nei livelli complessivi del Paese e dunque della Regione una sintesi dei principali risultati che riguardano soprattutto l'usura e i fenomeni del crimine. Il 12% delle imprese del terziario percepisce un peggioramento della sicurezza rispetto allo scorso anno. Il 27% sente aumentato il fenomeno dell'usura, soprattutto nelle grandi città e al sud. L'11% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività. Circa il 18% degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di esposizione a usura e racket. Di fronte all'usura e a racket, il 59% dei titolari di aziende ritiene che si dovrebbe denunciare. Il 34% dichiara di non sapere cosa fare, mentre il 7% pensa di non poter fare nulla. Tutto questo mentre sono almeno 30.000 le imprese del commercio, della ristorazione e della ricettività ad elevato rischio di usura. L'illegalità costa le imprese del commercio e dei pubblici esercizi quasi 31 miliardi di euro e mette a rischio circa 200.000 posti di lavoro.